buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno della riete ok la carta che volevo uscire è già qui questa no perché si è girata e noi possiamo quindi direttamente iniziare vediamo cosa accade nel mese questo mese per il segno della riete sia per coppie che per single quindi cominciamo e vediamo che un po per tutti in generale c'è l'energia della regina di bastoni quindi un bel mese sicuramente in cui ci sentiamo in potere ci sentiamo in power dicono in inglese sicuramente ci sentiremo anche molto attraenti in effetti ci sono dei momenti dei periodi in cui basta davvero poco per essere molto attraenti magari mettere il vestito giusto usare il giusto make up o semplicemente sentirsi sicuri di sé quando noi ci sentiamo sicuri di noi e stiamo bene con noi stessi siamo super figli siamo super attraenti ed ecco che questo è un po proprio quel mese in cui davvero basta poco o addirittura basta un sorriso per essere come una regina di bastoni la regina di bastoni fra le carte di corte come come potete vedere nel primo livello di nel corso di primo livello di arcani minori è un personaggio sicuramente che fa colpo fa colpo sugli altri e anche a primo sguardo perché il sentirsi così forti centrati in se stessi il sentirsi sicuri di sé essere capaci di guardare gli altri negli occhi e fare un sorriso all'omento giusto a dare quella sensazione di forza dare quell'immagine di sé di potere personale è ecco in quando noi siamo in questa energia basta davvero poco per essere attraenti agli occhi degli altri ma soprattutto la cosa più importante che stiamo davvero bene in generale qualunque cosa accada ed ecco che quindi anche per le coppie sia per le coppie sia per chi è single questo sarà per la riete un mese caldo un mese positivo in cui tra l'altro l'energia dei bastoni che è l'energia dell'elemento fuoco corrisponde all'elemento fuoco e anche l'energia del segno dell'ariete quindi abbiamo un fuoco su fuoco e se voi siete già abituati ad andare verso i vostri obiettivi sbattendo proprio la testa muri muri come si suol dire se voi siete già abituati a prendere iniziative senza rifletterci troppo perché gli arieti sono così gli arieti sono il primo segno dello zodiaco sono un po' i bimbi dello zodiaco e come dei bimbi vanno verso quello che vogliono senza porsi troppi troppi dubbi troppe domande ecco questo mese avremo fuoco su fuoco e quindi forse sarà ancora più accentuato per voi questa tendenza ad andare dove volete in realtà però non abbiamo un cavaliere che quindi va con questa energia super attiva ma abbiamo una regina che è ancora meglio perché significa che noi siamo capaci di andare dove vogliamo anche restando seduti e questa è una cosa molto bella e molto comoda significa che siamo davvero talmente tanto sicuri di noi che non abbiamo bisogno di compiere azioni o movimenti di chissà che tipo tutto è semplice ora in questo mese un'altra cosa che appare è che sembra che dovremmo fare un po di disinfezione cioè è uscita la carta del disinfettante giusto per spiegarvi che cosa intendo la carta del disinfettante è quella carta che esce quando noi dobbiamo depurarci da qualcosa ripulirci da qualcosa quando ci sentiamo per qualche motivo sporchi dal nostro passato intossicati ed ecco che è arrivato il momento invece di fare una bella pulizia non non è necessaria in fondo una pulizia profonda e interna basta una pulizia esterna una pulizia esteriore quindi stiamo proprio parlando di cose pratiche cose visibili molto visibili non abbiamo non stiamo affrontando temi che riguardano la nostra interiorità ma piuttosto temi che riguardano il nostro universo esterno quello che noi vediamo e creiamo al di fuori di noi puliamoci ripuliamoci da qualcosa forse ci forse c'è qualcosa che finora ci ha fatti sentire un po sporchi in senso metaforico qualcosa che c'è un po inquinati ecco è arrivato il mese per eliminarla passiamo però adesso a vedere le due singole colonne e vediamo che cosa accade per voi quindi da una parte in una colonna ritroverete voi stessi nell'altra colonna ritroverete o il vostro partner o la persona con cui state in qualche modo interagendo se siete single e capirete qual è la vostra colonna man mano che io andrò avanti a leggere ovviamente chiedo ai miei studenti come sempre di mettere in pausa dare un'occhiata e dare la loro interpretazione se ne hanno voglia nei commenti da questo lato abbiamo una persona che si sente come l'imperatore e che prova la regina di denari desidera il 6 di spade si comporta come un fante di coppe ciò che non dice la morte dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come una regina di coppe ciò che prove un 5 di coppe desidera l'asso di spade si comporta come un 9 di bastoni e ciò che non dice il 9 di coppe un po particolare in effetti come energie cominciamo da chi sta da questo lato che è colui o colei che ha tutto sotto controllo ed ecco che con questa carta noi abbiamo noi abbiamo in effetti una un po una ridondanza perché l'imperatore come spiego nel secondo livello quando parliamo di connessione fra astrologia e tarologia l'imperatore è proprio una di quelle carte che viene associata al segno dell'ariete e quindi ecco che è come rafforzare questa vostra energia potreste essere voi da questo lato potreste essere voi quelli che si trovano qui e che stanno in questo momento manifestando appieno il loro potere personale appieno la propria impronta energetica quella ricevuta dalla nascita quindi sicuramente un mese in cui siamo assolutamente in in power come dicevo prima in inglese siamo nel nostro posto seduti sui nostri troni al centro del nostro universo quindi ecco che rafforziamo l'energia ora il cominciamo da chi è in coppia cominciamo da chi è in coppia per chi è in coppia questo sicuramente un mese in cui uno di voi due e che potreste appunto molto probabilmente essere voi vi sentite davvero come se aveste tutto sotto controllo tutto nelle vostre mani non vi sfugge nulla sembra che le cose vadano abbastanza bene e voi vi sentite proprio come questa regina solidi stabili non vi manca nulla e la vostra il vostro modo di vivere la relazione di coppia è davvero bello presente importante da una certa stabilità e una certa solidità al rapporto e voi sentite anche che con il vostro partner c'è quella sorta di legame che è difficile da sciogliere è difficile da rompere perché quando parliamo di denari i denari sono l'elemento terra sono l'elemento più stabile di tutti sono quello che per avere per subire una trasformazione un cambiamento ce ne vuole quindi ecco che la terra dà una grande concretezza ai rapporti e così vi sentite anche se anche se sentite però forse qualcuno chi sta da questo lato sente un po il bisogno di leggerezza ecco quello che manca forse è proprio la leggerezza la capacità di non prendere tutto così sul serio vedete la carta dell'imperatore la carta dell'imperatore come tutte le carte ha il suo lato chiaro e il suo lato oscuro e quando parliamo di lato oscuro anche se di solito il lato oscuro si realizza quando noi rovesciamo la carta ma non sempre non è detto quindi ecco il lato oscuro dell'imperatore è forse una sorta di rigidità estrema che appesantisce anche la persona e soprattutto nei periodi più particolari in cui noi sentiamo questo bisogno magari di controllare le cose a occhio a vista perché o non ci fidiamo troppo di come le cose vengono fatte dagli altri o pensiamo che noi sappiamo farle meglio degli altri o qualunque altro motivo ecco mancanze di fiducia in generale noi rischiamo di essere troppo appesantiti e caricati dai nostri stessi obblighi e doveri e invece il desiderio forse è proprio quello di essere un po più leggeri magari di prendersi anche una bella vacanza e rilassarsi perché gli obblighi della vita o della coppia o di tutto quello che la circonda possono in effetti appesantire e questa è una carta che parla di prendere spazio prendere aria allontanarsi in senso positivo allontanarsi magari per una pausa per un per un momento di relax e dispensieratezza in cui possiamo davvero sentirci leggeri possiamo uscire dal ruolo di imperatore e possiamo un po goderci il ruolo del mag del matto ecco perché queste sono due carte che rappresentano un po l'energia del matto se noi le confrontiamo ora ad ogni modo in questa posizione chiunque sia da questo lato anche se sente il bisogno di leggerezza e trasformazione questo rimane solo un desiderio non viene espresso non viene manifestato da azioni concrete infatti la carta della morte è nella posizione dei segreti non è in una posizione esteriore in cui si vede e in cui si manifesta semmai esteriormente quello che noi vediamo è un fante di coppe cioè qualcuno che comunque pur essendo un po rigido pur essendo un po controllato però offre la sua coppa e forse questa persona manifesta di più la sua il suo senso di controllo che non il suo senso di accoglienza forse è più su un ruolo rigido che non su un offrire l'amore offrire sentimenti offrire emozioni però ecco come abbiamo appena detto per lasciarsi andare per offrire delle emozioni per sentirsi come il matto bisogna davvero lasciarsi andare e non si può associare una carta come quella dell'imperatore a quella del matto senza avere dei problemi di schizofrenia perché sono proprio l'uno l'opposto dell'altro l'imperatore è iper controllato il matto non gliene frega nulla di niente di nessuno va dove vuole ora se noi tiriamo troppo la corda se questa persona tira un po troppo la corda con questo bisogno di controllo in effetti prima o poi può esplodere trasformandosi in un matto senza controllo l'importante è che quello che viene fatto viene fatto secondo me sempre con un occhio vigile è un po come oscio quando parla del tantrismo e dello allora non so se voi leggete oscio oscio per esempio descrive in modo molto semplice la differenza fra la filosofia logica e la filosofia tantrica e dice che nella filosofia tantrica tu puoi fare tutto quello che puoi l'importante è che ti osservi mentre lo fai e che sei consapevole di ciò che fai nella filosofia logica tu devi tenerti super sotto controllo e devi fare solo ciò che decidi di fare non devi lasciarti andare a manifestazioni incontrollate o a emozioni fisiche fisiologiche incontrollate o a bisogni emotivi ecco questa sembra una persona che sta facendo lo yogi che quindi si sta autocontrollando sta controllando anche il partner sta controllando tutto la relazione il partner se stesso ma sente un forte bisogno invece di essere un po più tantrica il tantrica è colui che colui che segue la via del tantrismo quindi ecco si passa proprio da questo da questo ipercontrollo a questo bisogno di leggerezza che ancora non si vede e si vedrà nei prossimi mesi nei mesi successivi forse non siamo ancora pronti non siete ancora pronti per fare questo passaggio ma questo momento arriverà piuttosto appunto come abbiamo detto disinfettiamo la nostra vita e se per disinfettare la nostra vita bisogna guardare tutto con la lente di ingrandimento e scoprire i microbi uno a uno dove sono per eliminarli noi lo faremo dall'altro lato invece abbiamo una persona che non è molto soddisfatta di come stanno andando le cose e sta pensando di parlarne sta pensando di fare una bella conversazione una bella discussione questa è una persona che forse è appesantita da tutto questo controllo e da tutta questa rigidità è una persona che in fondo sta bene perché in fondo sta bene è comoda però è come se vorrebbe qualcosa di più vorrebbe più forse anche appunto più leggerezza anche da questo lato ma magari entrambi i partner state affrontando un particolare momento per cui sapete che adesso deve essere così e che magari vi lascerete andare più avanti è un po come quando bisogna tirare la corda tirare la corda tirare la corda sapendo che prima o poi possiamo lasciarla andare appena abbiamo finito di fare quel lavoro e quindi il momento giusto arriverà ma non è ancora adesso non è ancora adesso quindi ecco che questa persona sta un po sopportando questa le sta un po andando dietro perché perché crede che comunque va bene che magari l'altro abbia ragione e che sperando appunto che certe pesantezze siano una cosa passeggera ma si può anche andare bene chi se ne frega ora ora questa persona come vi dicevo ha bisogno forse di parlare di esprimersi magari anche di lamentarsi un po ma non lo sta ancora facendo e forse forse è anche una novità che questa persona si lamenti perché vedo qualcuno molto paziente che tende ad accontentarsi tende a non a non lamentarsi più di tanto e invece credo che arriverà il momento in cui arriverà il momento in cui questa persona avrà da dire avrà da dire e farà anche bene perché sì magari questa persona lo farà raramente di lamentarsi e lo farà raramente di mettere i suoi paletti ma a volte serve e quindi ecco che presto arriverà questo momento non è ancora al momento in effetti non serve ancora forse è più costruttivo continuare un po a tenere duro risveglia la sacerdotessa che è in te lascia che gli arcani ti svelino i loro segreti e impara a leggere i tarocchi con il metodo maya www.vocidagliangeli.com ma va bene così ragazzi prima o poi arriva il momento magari arriverà nel mese il mese prossimo o comunque nei mesi successivi e per quanto riguarda le coppie in generale io il consiglio che posso darvi è proprio quello di tenere duro e di concentrarvi su quello che serve al momento se voi sapete che in questo momento vi serve eliminare cose dal passato eliminare tossine anche perché noi accumuliamo tossine quando siamo stressati e infatti una delle cose che dicevo sempre quando avevo il canale di soramaya che era quel canale youtube un po per ridere in cui mi fingevo una guida spirituale di origine egizia ma che viveva in sicilia ecco io dicevo sempre ragazzi volete fare salire la kundalini prima di fare salire la kundalini dovete stare bene con voi stessi perché se vi sale la kundalini mentre litigate con il vostro partner o con la vostra famiglia finite in ospedale al pronto soccorso e da quell'ospedale non uscite più perché per far accadere certi fenomeni di tipo energetico nel nostro corpo il nostro corpo può essere nelle condizioni di reggerli questi fenomeni di tipo energetico e essere stressati e aver accumulato tossine nelle nostre cellule può provocare dei danni incredibili quando un'energia come quella di kundalini viene rilasciata se non sapete cos'è kundalini ragazzi magari commentatemelo che vi faccio un video apposta ora quindi ecco quello è il punto depuratevi depuratevi e godetevi questo mese di questo mese di forza in cui davvero vi sentirete molto al top nonostante dovete fare un piccolo sforzo dovete fare qualche sforzo e purtroppo avete forse forse avete bisogno di una vacanza e dovete aspettare un pochino prima di poterci andare però comunque sarà un bel mese passiamo invece a anche perché scusate vedo complicità ecco quello che vedo è complicità quello che vedo è che uno dei due si adatta all'altro perché ne capisce le esigenze questo è bello è bellissimo passiamo però ai single quello che vedo per i single è un mese nel quale uno dei due vorrebbe in effetti risolvere una questione che è rimasta in sospeso e voi direte chi è questo uno dei due se sono single e allora vi spiego sì è vero che siete single ma c'è nell'aria c'è nell'aria un qualcosa per molti di voi e questo qualcosa è un sembra un sembra un po un gioco sembra un po che vi trovate in una situazione in cui forse non vi sentite sicuri al cento per cento di volere qualcuno o qualcosa così com'è e quindi dovete fare i conti con la realtà dei fatti cioè se provate qualcosa per una persona io onestamente non credo che quello che voi provate è talmente tanto forte da da farvi compiere dei gesti particolarmente decisi no no anzi forse per via delle vostre esperienze passate voi ormai avete imparato a prendere le cose con una certa serietà a non lasciarvi andare senza riflettere e sicuramente qualche brutta esperienza vi ha insegnato che è meglio tenere gli occhi aperti ed essere certi di chi abbiamo di fronte prima di fidarci del primo che arriva o della prima che arriva e quello che vedo è che in questo momento avete anche la tendenza a impostare le relazioni prima di tutto sull'amicizia sull'affidabilità perché tutto il resto viene dopo se mancano queste cose fondamentali non ha senso davvero si corrono dei rischi e il rischio più grosso è proprio quello di farsi tanto male ora i singoli hanno bisogno di un cambiamento hanno bisogno forse di imparare un approccio diverso mettere in pratica un approccio diverso però il cambiamento deve prima arrivare da dentro prima di arrivare fuori e quindi ecco che chi è singolo è pronto a offrire la propria coppa sì è pronto a fare come un fante di coppe sì ma questa sorta di schizofrenia che abbiamo visto per le coppie c'è anche per i single e cioè da un lato questo iper controllo per paura di farsi male di commettere errori e dall'altro lato invece questo bisogno estremo di leggerezza di relax di lasciarsi andare di potersi affidare questa condizione mentale che ci mette sicuramente un po in difficoltà ma ci mette anche molto in discussione ci permette di elaborare 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 e ci fa capire che davvero dobbiamo trasformare delle cose di noi se vogliamo avere delle relazioni belle piacevoli e appaganti perché quando siamo in una relazione non possiamo avere sempre paura di quello che fa l'altro bisogna essere capaci di lasciarsi andare bisogna bisogna essere capaci di sentirsi sicuri all'interno delle relazioni sapete che tanti problemi di tipo sessuale dipendono proprio dalle nostre insicurezze e dalla nostra incapacità di fidarci e affidarci agli altri e appunto dalla nostra paura che qualcuno ci faccia del male emotivamente questi sono temi di cui prima o poi parlerò in un videocorso di sessualità sacra ma credo che ancora per quello ci vorrà tempo perché sto ancora ho appena finito guarigione carmica ed energetica e sto lavorando a al professionalizzante di tarologia ma dovete sapere che davvero la nostra sessualità dipende tantissimo dalla nostra psicologia non sono cose scollegate e se abbiamo dei problemi nella sfera sessuale derivano proprio dalla nostra incapacità di entrare in relazione in modo sano con l'altro sesso o con lo stesso sesso dipende da ciascuno di noi dai propri interessi e per chi è single io credo che voi davvero state improntando tutto comunque su un'immagine voi state dando un'immagine di voi molto forte fuori e questa immagine di voi vi rende davvero sexy belli fighi attraenti è una cosa molto bella perché in effetti cos'è che rende una persona attraente più della sicurezza in se stesso io trovo un uomo sicuro di sé lo trovo super attraente perché l'uomo per esempio dovrebbe in teoria fare sentire il proprio partner protetto e quindi ecco che questo è un elemento importante ma anche al contrario anche al femminile è altrettanto importante perché una donna che manifesta una certa sicurezza in se stessa è una donna che dice agli uomini io non ho bisogno di un partner ma se ne scelgo uno è perché ne ho voglia e anche questa è una cosa molto attraente credo proprio che sarete su questa energia che sicuramente è molto bella ma ma più che portarvi a iniziare relazioni nuove questa invece è un'energia che vi porterà a togliervi di dosso tutti tutte quelle robe che in passato vi hanno fatto apparire diversi più deboli e vi hanno creato problemi questo è un mese proprio di depurazione è un mese di pulizia in cui siamo così belli e così attraenti proprio perché ci stiamo liberando da tutte quelle cose che ci appesantiscono che ci hanno appesantite chi sta interagendo con noi chi sta interagendo con noi vorrebbe di più sì c'è qualcuno che da noi vorrebbe di più è ovvio che questa cosa può anche essere ribaltata quindi potreste essere voi quelli che vogliono qualcosa di più da qualcuno che si sente molto sicuro di sé ma offre poco perché quello che si vede è in sintesi una persona che è molto sicura di sé e offre poco è un'altra persona che invece vorrebbe di più e non è soddisfatta e vorrebbe anche l'occasione per discuterne per parlarne e credo che dare o non dare di più è una scelta che dipende da tantissimi fattori e non solamente dall'attrazione che noi proviamo per qualcuno ma dipende anche da quanto ci sentiamo sicuri di poterci appunto lasciare andare e forse questo sarà il tema per gli ariete single quanto siamo pronti e disposti a lasciarci andare e quanto invece sentiamo il bisogno di tenere un po' la nostra vita sotto controllo a questo punto però io direi di andare a guardare che cosa accade nell'incrocio fra ops nell'incrocio fra il nostro segno dell'ariete e i 12 segni dello zodiaco quindi vediamo un po' le nostre cartine che cosa ci dicono e io ragazzi vi ricordo che se per avere una lettura privata o una sessione con me di qualunque tipo potete inviare un'email o andare sul sito internet e prenotare da soli per diventare miei studenti invece vi invito a mandare un messaggio whatsapp al 338 8191267 perché vi metto direttamente in contatto con la responsabile del settore videocorsi che vi spiegherà un po' le scontistiche disponibili la possibile possibilità di rateizzazione quindi ecco senza nessun impegno sentitevi liberi di chiedere e domandare ma vediamo un po' che cosa le nostre cartine hanno da dirci ecco qui vediamo un po' e cosa succede fra ariete e ariete beh fra ariete ariete sta per iniziare un nuovo percorso per voi quindi come un po' ricominciare da capo o un davvero iniziare qualcosa di nuovo da capo il toro sta per avvicinarsi e quindi sta a voi poi decidere che cosa farne che cosa rispondere al toro il gemelli non ha le idee chiare le avrà presto comunque quindi solo dovete solamente avere un po' di pazienza in più con il cancro sappiate che questa persona ha altre opzioni a disposizione e questo ovviamente complica un po' i giochi il leone sta facendo troppi giochini mentali il leone non riesce a rilassarsi ecco quel bisogno di leggerezza con leone sembra non esserci con la vergine è un'amicizia potrebbe trasformarsi in una relazione ma potrebbe anche trasformarsi in una come si chiamano le tromba amicizie amicizie con beneficio quindi è ancora un po' in dubbia la cosa che cosa siete o cosa sarete con la bilancia le cose invece si chiariranno più avanti fra circa un mesetto con lo scorpione allora lo scorpione in questo caso verrà da voi quando sarà un po' troppo tardi quindi avrà perso il treno il sagittario si sta sentendo rifiutato ma voi sono sicura che avete i vostri motivi se rifiutate il capricorno beh con il capricorno purtroppo i sentimenti ci sono ma se nessuno fa la sua mossa rimanete impallati come scimuniti e so che non è colpa vostra però purtroppo la situazione è un po' bloccata stile appeso l'acquario con l'acquario c'è una mancanza di collaborazione che andrebbe risolta se si può e infine il pesci no ragazzi con il pesci io non so cosa avete combinato magari me lo commentate se ne avete voglia ma il pesce è contento che sia finita e che avete fatto il pesci poverino vediamo adesso gli angeli cosa hanno da aggiungere eh sì qua parla più che altro di soldi e di lavoro e questa è una carta che ci dice che in questo momento le nostre questioni economiche rappresentano un fattore importante anche per la vita sentimentale e che quindi dobbiamo focalizzarci forse anche su questo aspetto più materiale più fisico per rendere per per facilitare anche le nostre relazioni l'ambito delle relazioni per il resto ragazzi io vi invito a mandare un email o ad andare sul sito internet e se volete diventare miei studenti mandate un whatsapp al 338 8191267 so che vediamo se lo 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 vediamo se